Sono anni che il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari, denuncia la presenza di pregiudicati all'interno degli alloggi ATER nel quartiere di Fontanelle a Pescara. Alla luce dell'ultimo fatto di cronaca, registrato nel popoloso quartiere pescarese, Pettinari torna a chiedere la verifica dei requisiti degli inquilini delle case popolari, di proprietà, lo ricordiamo, della regione Abruzzo, e un'immediata indagine patrimoniale. Sì, sono anni che io denuncio quello che oggi è stato certificato dalla cronaca, cioè persone che detengono gli alloggi popolari con un tenore di vita altissimo, cioè persone ricche che sono all'interno degli alloggi popolari, ma ricche perché? Vanno magari per attività illecite, spazio di droga e quant'altro, cioè occupano abusivamente, quando va bene pagano 10 euro d'affitto, hanno marchine parcheggiate da 70 mila euro sotto casa e guadagnano dai 500 ai 1000 euro al giorno con lo spazio di droga. Queste persone vanno allontanate immediatamente dalle alloggi popolari perché a tutela di quei tanti cittadini onesti, ne sono 750 nella provincia di Pescara famiglie, che stanno aspettando da 10 anni un alloggio popolare, non ci possono entrare perché ci sono questi delinquenti. Come è noto, i carabinieri hanno trovato in casa di un rom a Fontanelle 110 mila euro in contanti, secondo quanto disposto dal magistrato, però i soldi occultati in un intercapedine dell'alloggio devono restare all'uomo. Di fronte a queste notizie cresce l'indignazione e lo sconforto, ha aggiunto ancora Pettinari. Ma allora che cosa chiedo io? Uno, che il proprietario delle case ATER, che è quindi la regione Abruzzo, il presidente di regione, parta con una grande stagione di indagini patrimoniali e sgombero degli occupanti abusivi, in collaborazione con le forze dell'ordine. Quindi forze dell'ordine debbono fare indagini patrimoniali a verificare cosa c'è, perché io non posso concepire che qui a pochi metri da me è stato trovato all'interno di un alloggio 100 mila euro in contanti nascosti in un intercapedine, in malloppi da 100 euro, 50 euro. Non è concepibile, tu non puoi avere un alloggio popolare se hai questo tenore di vita altissimo. L'alloggio popolare ce l'ha la persona con reddito zero o con reddito bassissimo. Quindi indagini patrimoniali sgombero degli sfatti abusivi. Io sono arrabbiatissimo, dobbiamo bonificare e ripristinare la sicurezza e la legalità in questi posti, altrimenti non andiamo a nessuna pasta. E il presidente di regione deve darmi una risposta adesso.